La Normanna sembra ormai abituata a cadere per poi rialzarsi e ripartire più forte di prima. I Granata nelle ultime gare hanno dilapidato il vantaggio che li teneva al sicuro dalla zona calda della classifica. Anche quest'anno il finale di campionato è tutto in salita e sarà davvero una lotta estenuante quella per tenersi a galla ed evitare i temutissimi play-out. Le rimanenti sei partite non si possono affatto fallire, ad iniziare da sabato. Fare visita al Catanzaro non è di certo una passeggiata. Al di là del valore dei calabresi, ci si mette anche la rabbia dei giallorossi bisognosi di riscatto dopo la sconfitta di Scafati, ma soprattutto la perdita del primato in classifica. Dall'altra parte però la Versa vuole archiviare definitivamente le due debacle consecutive e le tante polemiche che ne sono seguite. Il ritorno del direttore generale Nicola Pannone è un chiaro segnale di rinascita e voglia di riprendere un nuovo cammino. Normanna quindi che pensa anche al futuro, ma soprattutto al presente, che impone di fare risultato. Per squalifica non saranno della partita D'Urso e Ciminari, ma ritornerà disponibile Parisi, che ha scontato il turno di stop. La partitella con la berretta ha dimostrato lo stato di forma dei Granata, che nelle ultime uscite sono sembrati particolarmente sotto tono. Buone notizie provengono da Chietti, che ha finalmente superato i problemi fisici. Ed in amichevole si è messo in evidenza con una doppietta. Il duo Juarifo e Yamanzillo potrebbe quindi pensare a nuove soluzioni tattiche, rivedendo il 4-3-3. Ci si aspetta quindi qualche novità di formazione. L'obiettivo principale è però non tornare a casa a mani vuote. Anche un pareggio potrebbe accontentare Di Girolamo e compagni, che sperano in una prestazione convincente come quella dell'andata.